Le persone più su di età sono i sardi. Arola Rai parte, va in Sardegna e va da un anziano, 105 anni. Salve, signor Gavino, mi dica qual è stato il giorno più bello della sua vita? Il giorno più bello della mia vita è stato quando si è persa la pecora su Genargeno. L'abbiamo cercata per 48 ore. Quando l'abbiamo trovata, ce la siamo inculati tutti fino alla mattina. Alla Rai, non posso trasmettere una cosa. Scusi, signor Gavino, il secondo giorno più bello della sua vita. Il secondo giorno più bello della mia vita. Quando si è perso il montone su Genargeno. L'abbiamo cercato 48 ore. L'abbiamo ritrovato. Quando l'abbiamo ritrovato, ce la siamo inculati tutti fino alla mattina. E alla Rai, per me, mi ha trasmettere la orissima. Ma vuoi fare? Stiamo assenti. Scusi, ma qual è stato il giorno più brutto della sua vita? Il giorno più brutto della mia vita? Quando mi sono perso sul Genargeno. Il giorno più brutto della sua vita? Doi ascol? Sono stati dieci di underwater. Sono stati ammolito. Si c'è un giorno più brutto della sua vita?